Stroncato da un infarto durante la trasferta di lavoro a Roma per la partita di Champions League tra i giallorossi e il Liverpool, è morto così a soli 57 anni Mauro Pratelli, ispettore della Polizia di Stato in forza al secondo reparto mobile di Padova, ma residente nella marca, a quinto di Treviso, nella capitale per assicurare il servizio d'ordine. Durante un match caldo dopo i fatti di Liverpool, Pratelli la mattina del servizio non è sceso dalla sua stanza, i colleghi che sono andati a cercarlo lo hanno trovato senza vita, stroncato probabilmente da un arresto cardiaco, agente apprezzato dai colleghi che lo avevano soprannominato, il gigante buono per la sua altezza non aveva dato alcun segno di malessere che lasciasse presagire la tragica fine, lascia la moglie e tre figli di 30, 25 e 20 anni.